ora vediamo siamo con il live eccoci qui buonasera 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 siamo live ciao a tutte ciao a tutte cerco di sistemare la videocamera in maniera tale che anche se un po più inclinata inclinato l'obiettivo però io possa riuscire anche a leggere eventuali vostri commenti ciao a tutti ciao 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 c'è una persona già ma non riesco a vedere il mio cellulare non mi fa vedere chi è e due persone vediamo se riusciamo a smanettare cercando di capire no 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 vabbè muovemo niente altrimenti olivia ciao benvenuta che piacere questa sera stare con voi vi in attesa di aspettare che arrivi ancora qualcun altro vi confesso approfitto per questi pochi secondi di tempo per dirvi che mi piace tantissimo incontrarvi è come se avessimo un nostro appuntamento segreto anche perché essendo il gruppo una un luogo chiuso allora mi piace pensare come come quando eravamo piccoline che si che ci si incontrava fra poche amiche per raccontarsi dei segreti e delle storie d'amore insomma ecco così io vedo queste dirette anche perché mi piace tantissimo il clima che si è creato perché veramente grazie a voi perché siete veramente delle persone speciali e siamo arrivati a 6 a questo punto diciamo che io inizio anche perché siccome il video resta in diretta resta sul gruppo voglio dire magari qualcuno potrà vederlo anche in seguito veniamo a noi questa settimana prima di tutto voglio dirvi che faccio due live uno è quello che vedrete questa sera qui e riguardo è ovviamente esclusivamente il feltro ad ago l'altro invece se vi appassiona anche il feltro ad acqua lo farò domani sul mio canale instagram quindi se vi va e se siete interessate anche alla tecnica d'acqua domani fiori con acqua ciao patrizia che bello vederti qui e allora il di fiori stasera voglio fare con voi un fiore vi voglio 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 dirvi questo cosa vediamo stasera vi voglio insegnare a fare un fiore con una tecnica che vi permetterà di fare dei petali lisci perfetti e modellabili e con questa tecnica che vi faccio vedere potete fare qualunque tipo di fiore il fiore che facciamo stasera ovviamente è un fiore abbastanza semplice ed è anche uno dei miei preferiti ed è il papavero eccolo qui è semplice perché come fiore ha 4 4 petali due grandi e due piccoli poi ha un calice interno e quindi era interessante farvi vedere anche come realizzare il calice interno e poi alcune decorazioni che non sono di lana allora io questa parte qui l'ho lasciata libera e nel senso che non l'ho ricoperta poi vi racconterò anche il perché ciao teresa ciao antonella non ci posso credere antonella presente fra noi in orario per giunta questa cosa è divertentissima ciao alda ciao 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 a tutte benvenute che bello vedervi qui allora cosa ci serve per fare questo papavero che vi ricordo ripeto fatto questo fiore potete fare poi qualunque cosa potete anche fare le foglie e il resto allora prima di tutto vi serve un cartamodello e questo lo dirò lo ripeterò fino alla fine fino all'inverosimile nel senso che sia che voi facciate questa lavoriate la lana per hobby sia che lo facciate per lavoro in entrambi i casi è fondamentale per avere un cartamodello uno schizzo del lavoro che volete fare ma semplicissimo come questo qua vedete che ho fatto io giusto per capire che cosa volete realizzare e poi il vostro cartamodello perché questo vi permetterà di replicare eventualmente il vostro fiore anche a distanza di un anno e soprattutto se ne per esempio ne dovete realizzare in ciao simona benvenuta se ne dovete realizzare tanti tipo per esempio vi chiedono di realizzare delle bomboniere come fate se fate tutto così in maniera di pancia e a questo vi serve proprio per sopperire a questo problema allora lo schema che trovate qui non vi preoccupate perché ve lo faccio ve lo posto vi faccio uno schema fatto molto meglio di questo e ve lo posto sul gruppo allora in generale abbiamo due petali che devono avere questa forma due petali più piccoli come vi dicevo è un calice che cosa faremo per utilizzare per dare questa forma utilizzeremo del fil di ferro il fil di ferro che ho utilizzato io è un fil di ferro modellabile ed è a una sezione di circa 0,1 0,2 millimetri quindi come vedete è estremamente modellabile non prendete il fil di ferro di mezzo centimetro perché quello lì è estremamente riccio anche se è flessibile ma non vi permetterà di creare movimento con i vostri petali questo per esempio vedete si è completamente potete trasformare come volete immaginate ora questo qui è un papavero quindi abbiamo detto che ha solamente pochi petali ma immaginate una rosa i cui petali hanno la bellezza di una rosa è proprio il movimento che questi petali fanno questo è reso possibile grazie all'uso interno di questa di un'armatura fra virgolette che questo fil di ferro è estremamente sottile quindi vi dovrete procurare questo fil di ferro e la palette che ho usato io è della lana rosso passione poi della lana nera per fare la parte interna del petalo questo servirà per fare i petali poi la parte della lana verde per fare il calice e ho della lana marrone o un pezzettino di prefiltro marrone insomma quello che avete poco importa tanto ci servirà un pezzettino questo è quello che occorre dopodiché vi serve il vostro tappetino come al solito tappetino e qui di aghi ne utilizzo due uno grosso e uno sottile allora utilizzerò fatemi prendere quelli la più uno grosso ecco qua non guardate il fatto che sono storti perché lo dicevo proprio stamattina in una in un commento non ricordo a chi forse a barbara che quando gli aghi non sono di una buona lega d'acciaio possono si rischia insomma di piegarli però non vanno mai buttati perché ne sono sempre utili allora quindi questo è il nostro un altro è un altro sottile ecco qui ce li ho tutti e due piegati eccoli qui allora iniziamo siamo pronti ciao cinzia benvenuta benvenuta spostiamo il nostro quaderno lo metto qui così in maniera tale che voi riuscite a vedere solamente lo schema la prima cosa da fare e prendere il vostro fil di ferro e come vedete qua vi ho scritto il le dimensioni quindi per fare questo il petalo più grande vi occorrerà tagliare 28 cm di fil di ferro per questo 24 per questo 20 allora io già ne ho tagliato uno eccolo qua già ne ho tagliato uno e con questo andiamo a fare che se la mettiamo dopo allora con questo andiamo a fare il petalo più piccolo perché quelli più grandi già li ho fatti quindi volevo fare con voi quello più piccolo perché sempre per il fatto che voglio ottimizzare il tempo è inutile che vi faccio vedere una lavorazione lunga che però potrebbe essere fatta anche con una cosa più piccola quindi possiamo fare direttamente questo quindi prendete il vostro pezzettino di fil di ferro e lo guidate esattamente intorno alla forma del vostro petalo ecco qui una volta fatta questa cosa anna maria benvenuta una volta fatta questa cosa attorcigliate però il mio suggerimento è questo munitevi di un paio di pinze e girate tenendo il la testa girate il la pinza dove mi direte anna ma perché che differenza c'è tra girare con le mani e girare con la pinza la differenza è questa se io giro giro così allora per tutto non otterrò il lo stesso la stessa parte attorcigliata infatti vedete qui non si è attorcigliata ma poi il filo mi diventa tutto ondulato perché siccome il filo è estremamente flessibile allora nel momento in cui vado a girare necessariamente si piegherà la parte di sopra e la parte di sotto invece la pinza serve proprio per evitare tutto questo che io con una mano tengo la testa e mano mano mi vado a girare il filo per attorcigliarlo in questo modo sia attorciglierà in maniera uniforme sarà quindi se attorcigliandosi in maniera uniforme sarà anche più compatto ecco questo qua è un piccolo trucchetto insomma che è sulla dal dall'essere feltraie insomma e anche alla fine la cosa più complicata talvolta è proprio attorcigliare la punta perché è quella che puntualmente vi finisce nelle nelle dita ecco qui avete un attorcigliamento più completo e questo qui praticamente risulta più diritto rispetto a prima perfetto poi ve lo andate a sistemare di nuovo sulla sulla forma potete farlo a punta potete farlo come volete immaginate per esempio il papavero che ha una ciao daniela ciao barbara che bello vedervi immaginate per esempio il papavero che ha la punta quindi nel momento in cui poi voi andate ad ad ottenere il vostro il vostro ferretto che farà da appunto da d'anima d'anima metallica ve lo andate di nuovo a risistemare ora veniamo a noi veniamo al lavoro al lavoro duro da manuale allora quindi noi adesso andremo a prendere della lana rossa della lana rossa ecco qua della lana rossa della lana rossa allora vi voglio far vedere una cosa la quantità di lana da prendere è importantissima perché in questo papavero che ho realizzato se vedete bene ogni petalo ha uno spessore molto consistente diciamo che in alcuni casi lo spessore consistente potrebbe essere interessante simpatico da un punto di vista stilistico perché è pacioccoso fra virgolette ma se voi invece volete ottenere una flessibilità estrema la vostra bravura starà nell'utilizzare poca lana e fare dei petali veramente sottili che si riescono a vedere addirittura in trasparenza quindi in una banale operazione di della stesura della lana dovete sempre considerare la quantità anche perché immaginate che in generale quando andiamo a lavorare la lana si può sempre aggiungere ma un certo punto è difficile toglierla vado a posizionare il la mia anima la mia anima già vedete per esempio l'importanza di avere un'anima di ferro perché in petali estremamente complessi magari dove ci sono delle pieghe ci sono delle parti che rientrano avere un'anima è decisamente una guida importantissima che vi permette di lavorare allora io qui già so che ho preso tanta lana quindi ne vado a levare un po un pochino perché voglio riuscire a fare un petalo estremamente sottile allora vado a ripiegare la lana verso la parte centrale mi aiuto con un aghetto uno spillo per tenerla ferma e la prima cosa che vado a fare è utilizzare lago grosso quindi stiamo parlando di un 36 o di un 38 mi vado a fare la mia cucitura ok sposto e faccio la stessa operazione che ho fatto lateralmente me la faccio verso la parte di sopra mi aiuto con un altro ago per tenere ferma la lana e vado ad agugliare come vedete spero che voi riusciate a vedere nel agugliare si è creata questa questa sorta di bordino che praticamente mi e questo bordino mi dice proprio che io non ho usato moltissima lana perché invece in questo papavero qui con il petalo come vedete in realtà la quantità di lana era tanta e non si riesce più a distinguere non si riesce più ad ottenere questo tipo di contrasto quindi il mio consiglio è provate a utilizzare poca lana perché in questo modo riuscirete ad affinare tantissimo la vostra tecnica il fatto che io adesso ho usato poca lana si vede dal fatto che qui in trasparenza si vede il ferretto ma come vi dicevo questo non è un problema perché magari lo andiamo a ricoprire ora stacchiamo il nostro petalo lo giriamo ma stavolta non usiamo più il il 38 ago 38 grosso ma usiamo quello fine il 40 e 42 quello che avete e lo utilizziamo badate bene in obliquo perché se io adesso lo andasse a utilizzare perpendicolarmente al mio lavoro io andrei a fare una cucitura andrei ad infeltrire invece in questo momento io ho necessità di livellare la superficie ed eliminare tutti questi peli e poi ricordatevi che quando avete superfici grosse quindi dovete infiltrire delle sfere giganti delle dei volumi grandi allora lago grosso effettivamente va usato in profondità ma quando avete superfici che devono 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 essere abbastanza trasparenti lago grosso vi serve solamente per avviare il lavoro perché tutto il resto lo dovete continuare a fare con lago fino o quello extra fino ora la vostra il vostro lavoro consisterà nel continuare ad agugliare fronte e retro ho passato un insetto ah sì sono arrivato ho già iniziato a fare caldo qui per la prima volta e quindi da me e io abito praticamente a ridosso della duna a pochissimi metri sono iniziate le zanzare allora quando vedete qui questi questi peluzzi voi ve li ritirate verso la parte opposta e sempre tenendo lago in obliquo vedete non si sente nemmeno tantissimo rumore non è che faccio così sempre ago ago storto anche qui me lo vado a girare e continuo quando avete fatto questa cosa io vi consiglio di a questo punto di usare il calore di sfruttare il calore delle mani la lana infiltrisce meccanicamente ma anche con il calore e quindi sfregando e facendo sentire massaggiando con le mani calde velocizzerete il processo di infiltrimento non fatelo con molto vigore ecco qui allora noi dobbiamo ottenere questo 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 è da te la patria delle zanzare e questo quindi io vi dico di continuare ad infiltrire avendo la pazienza di lisciare tutta la superficie e di non e di verificare che non si sfilacci anche perché nel momento in cui utilizzate il l'anima di fil di ferro e per dei lavori si presume che un po più ricercati quindi mi raccomando non arronzate una volta che avete fatto questa operazione dovete verificare dove ci sono dei posti dove il fil di ferro magari più visibile e se riuscite a vedere qui c'è questo pezzettino allora basterà semplicemente prendere un altro po di lana sempre lo stesso discorso però dovete riuscire siccome qui è trasparente quindi c'è meno quantità di lana dovete riuscire ad avere quell'occhio e quella manualità di mettere la quantità di lana uguale a quest'altro lato quindi ogni cosa cercate sempre di riflettere e di dare molto molto ascolto alle vostre alle vostre mani se avete difficoltà toccate il vostro pezzo allora in questo caso abbiamo questa parte qui che deve essere ricoperta e andiamo a fare proprio la l'aggiunta la sopponta si dice da noi non so se è un termine che si usa pure da voi andiamo a mettere una sopponta guardate che adesso nel mettere questa parte aggiuntiva non ho usato l'agogrosso perché mi farebbe dei buchi e non serve a me andare a compattare io devo semplicemente aggregare la fibra ad altra fibra giro il lavoro mi tiro un po da quest'altro lato la lana e sempre in obliquo vado a lavorare quindi andate a lavorare anche sulla parte laterale ecco qui allora al dami e io massaggio e mentre massaggio vado a leggere il commento di alda parlando di aghi come faccio a capire quando faccio un lavoro quale lago giusto io sono una principiante allora alda prima di tutto ti devi chiedere che tipo di lavori vuoi fare se sei una principiante io consiglio sempre di prendere aghi aghi fini e aghi medi senza badare al numero all'inizio perché utilizzare aghi numerati con il calibro apposta è veramente questione di finezza per chi vuole stare lì a scolpisce fa degli interventi pittorici quindi io ti dico prendi un ago fine e un ago medio perché ti sconsiglio lago grosso perché lago grosso serve per fare per unire dei pezzi e fare grossi lavori di filtratura unendoli fra loro e siccome puntualmente le persone comprano sempre lago grosso e poi dicono ma perché il lavoro è pieno di buchi perché è pieno di buchi allora io dico non usate il lago grosso non lo comprate io lago grosso lo lascerei per superfici veramente grandi o se dovete fare un che ne so a volte si fanno la si creano l'anima di alcune bambole che poi vengono ricoperte che ne so la testa di alcune bambole che saranno successivamente ricoperte di lana di un altro colore in quel caso allora non ce ne frega se si vedono i buchi e allora vai di ago grosso compra il aghi fini e aghi medi nel frattempo io sto massaggiando ed ecco qui il nostro lavoro si è infiltrato c'è un pelo indisciplinato a questo punto dobbiamo aggiungere il nostro pezzettino nero ecco qua ci aggiungiamo un pezzettino nero al centro tipico dei petali del papavero e andiamo allora fondamentale adesso siccome abbiamo lavorato in maniera estremamente sottile lavorare in obliquo sempre perché se vado a lavorare in questo modo sto dicendo alla lana nera che deve andare ad infiltrirsi con la rossa e quindi andando a girare io mi ritrovo la lana nera dall'altro lato per evitare tutta questa cosa devo lavorare in obliquo se poi vi capita di avere la lana che esce dall'altro lato not problem vi prendete delle forbicine da ricamo vi ritagliate la lana in eccesso e la andate a ricoprire con un altro pezzettino rosso sempre lavorando in obliquo la bellezza della lana sta proprio nel fatto che si può ottenere sempre un rimedio io spero che con questa tecnica già vi possano frullare in mente delle idee per creare dei fiori a parte esistenti ma anche inventati perché voi potete veramente avendo l'anima di fil di ferro potete realizzare veramente qualunque cosa e soprattutto dare qualsiasi tipo di movimento perfetto allora i nostri petali ci sono 1 2 3 4 e sono qui quindi adesso cosa dobbiamo andare a fare adesso dobbiamo andare a fare il nostro calice che è questo gabriella in diretta no signori miei non ci posso credere fermatevi tutti perché dobbiamo festeggiare il fatto che gabriella si sia collegata a un social gabriella io per te fare un applauso allora dicevamo dobbiamo andare a fare un calice questo calice qui e quindi anche per questo vi suggerirei se volete lavorare con ottima definizione ci andiamo a fare il nostro la nostra anima di fil di ferro che dovrà essere di 20 centimetri ecco qui il procedimento è sempre lo stesso io mi sono andata a fare un piccolo cappietto e poi con le pinze sono andata ad arrotolare su se stesso il fil di ferro per creare la mia anima allora cosa devo fare mi prendo la mia lana verde ne tolgo un pezzetto ecco qui la inserisco all'interno del mio cappietto vado a fissare giro intorno al mio cappietto come se volessi fissare le estremità e poi inizio ad arrotolare la lana in maniera stretta si vede riuscite a vedere se intorno al mio cappietto questa lana che sto usando è merinos extra fine quindi dobbiamo utilizzare il degli aghi fini perché se utilizzate la merino su una merino extra fine degli aghi grossi non la infiltrerete mai quindi la prima cosa mi vado a cucire il mio pezzo maniera delicata in maniera tale che non si possa riaprire vado a lavorare un po la base ok e poi questa parte qui me la ripiego faccio delicatamente lavoro delicatamente la base per ottenere dove ecco qua proprio la forma del calice quindi questa parte qua più stretta che poi mano mano viene svasata quindi mi lavoro se voi notate io sto con una mano la mia sinistra lavorando punzecchiando nella stessa direzione facendo attenzione ovviamente al fatto che sotto c'è del fil di ferro e che con quale che mi può far rompere la punta sto andando con l'altra mano a girare a 360 gradi il lavoro questo mi permette di avere la stessa pressione su tutta la superficie ora che cosa abbiamo noi abbiamo qui una parte che si chiude però questa parte qui come vedete schiacciata mentre invece noi vogliamo dargli un po più consistenza quindi non dobbiamo fare altro che prendere ciao magda benvenuta ciao simona ma quante siete allora mi vado a posizionare stavolta la lana solo nella parte alta me la fermo me la fermo me la fermo e vado ad abbassarla aspettate perché c'è ecco mi fermo prima così e poi vado a lavorare la base in maniera tale che do un tono una parte un po più schiacciata anche qui come vi dicevo dovete lavorare con molta leggerezza anzitutto perché sotto avete il fil di ferro e rischiate di spezzare la punta seconda cosa perché in questo caso abbiamo della lana merinos ok questa operazione l'abbiamo fatta dobbiamo mettere il nostro questa parte qui che praticamente è una parte importantissima perché è la capsula che contiene tutti i piccoli i piccoli futuri papa verini mi vado a prendere un pezzettino come vi dicevo di io ho preso del prefiltro ma potete prendere anche un pezzettino di lana marrone insomma la posizionate al centro centro punzecchiate al centro maniera tale che la fissate e poi ve la andate a cucire lateralmente tutto intorno allora a me non piacciono i soggetti iper realistici quindi per questo trovate sempre delle delle situazioni più stilizzate in tutti i miei lavori però se a voi piace l'iperrealismo qua manca per un pezzo quindi lo andiamo ad aggiungere se a voi piace l'iperrealismo quello che vi suggerisco di fare è osservare la natura quindi vedete esattamente cosa come composto il fiore che volete riprodurre e andatevi a riportare se riuscire se riusciste a comprarne uno io ve lo suggerirei perché vi consiglierei di prima di tutto di metterlo in erbario e seconda cosa di utilizzare un calibro per misurare tutte le le parti le parti aeree le parti il calice i sepali te pali eccetera eccetera eccoci qui ecco qui una volta che abbiamo fatto il nostro pezzettino voi potete scegliere o di lasciarlo così oppure di ricamare sopra a stella con del cotone il dei dei segni appunto che questi qua sono i segni che si trovano nel papavero detta questa cosa dobbiamo semplicemente comporre il nostro papavero quindi questo andrà al centro ci mettiamo a no deve andare al centro ma al centro ci sono questi per fare questi noi ci prendiamo abbiamo bisogno prendetevi un po di filo e io ho già ho tagliato dei pezzettini come vedete qui sono e sono e sono lana filata allora per fare questi io ho tagliato ho preso una linea di tre metri 60 60 120 un metro e 80 praticamente ho preso un metro e 80 di filo e l'ho tagliato sempre a metà ottenendo questo adesso io che cosa vado a fare aspettate fatemi aprire che pezzettino così questo qua è uno dei metodi che io utilizzo perché ce ne sarebbero tanti se vi viene in mente un metodo ancora più semplice va benissimo e suggeritelo perché io cerco di fare le cose estremamente semplici perché ovviamente già attraverso un un video non non è facile capire tutti i passaggi quindi io cerco sempre di fare le cose più semplici possibili e adesso cosa sto facendo sto semplicemente facendo un nodino intorno a questo mazzetto di di lana ma che mania tale che me lo possa tenere fermo ecco qua faccio un nodino perché faccio questo nodino perché questo deve andare qua in mezzo ora io questo qua l'ho fatto a mano nel senso che ho preso tutti tutto il mazzetto l'ho distribuito intorno e l'ho fermato ma voglio dire dipende moltissimo dalla vostra manualità ecco qua inserito abbiamo inserito e adesso ce lo andiamo a rifilare però non vi preoccupate rifacciamo un altro nodino in maniera tale che stavolta sia più chiuso più rigido dove sta allora riprendiamo uno ecco qua fatelo ben stretto in maniera tale che non possa scappare ok e andatemi a tagliare adesso ci andiamo a tagliare tutto quello che non ci serve quindi questo non ci serve facendo attenzione a non tagliare il nodino riuscite a vedere alda mi chiede so che ci sono vari tipi di lana come si può capire qual è la lana giusta e ma dipende dal lavoro che devi fare che tipo di lavoro devi fare in genere la lana che si compra quella che vedi che trovi un po ovunque è quella che la lana italiana va in genere va bene l'importante è non prendere ci sono invece delle mercerie pochissime a dir la verità che vendono lana cardata in realtà con un buon quantitativo di sintetico ecco io quelle lì le eviterei totalmente ora andiamo con le nostre forbici però alda se tu vai nei documenti del gruppo vedrai delle un uno schema con tutte le cose che mi hai chiesto i tipi di aghi i tipi di lana magari ti può essere sicuramente d'aiuto ecco qui e quindi abbiamo ottenuto questo come fai a dire che il papavero non ti è uno dei fiori più belli in assoluto teresa allora vado a posizionare il mio petalo il primo il piccolino e lo vado a far girare qua intorno ok adesso non ci sarà bisogno necessariamente delle delle pinze perché abbiamo noi un po più di consistenza andiamo a mettere il secondo petalo riuscite a vederlo sì 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 ok secondo petalo e poi mettiamo quelli più grandi che devono essere messi lateralmente quindi se i primi li abbiamo messi qua gli altri petali andranno da quest'altro lato ecco qua è importante anche il fatto che il vostro fil di ferro è estremamente sottile perché andandoli adesso a posizionare uno ad uno ottenete comunque una consistenza ancora modellabile ecco qua andiamo a girare e se avete difficoltà alla fine ritornate ecco qua con la nostra ritornate con la pinza levate mi raccomando safety first quindi la sicurezza per prima cosa andate questa parte qui me la girate in maniera tale che non vi possiate fare male pinza e giro a tutto lei eccoci qui ora andiamo a comporre il nostro il nostro papavero questo qui è da questo momento in poi c'è così c'è qualche cosa la potete andare ad eliminare e come vedete con il utilizzando il fil di ferro e adesso mi posso proprio andare a creare movimento con i petali ecco qui non so se riesce se riuscite a vedere qua magari tagliamo perché ho messo una quantità industriale c'è loro messi troppo lunghi quindi ce li andiamo a tagliare e ovviamente anche qui io potevo farvi potete fare quello che voi se sapete ricamare per esempio potete fare dei ricami interni veramente poi potete aggiungere delle sfumature con i pigmenti potete fare veramente quello che volete la cosa importante è che adesso come vedete i petali possono essere completamente modellati per ottenere un effetto realistico si vede bene perfetto ecco qua mi vado un po a chiudere perché mi piacciono un po chiusi questo così e questo così ecco qua questo qui è quello lì con adesso non non so se si riesce a vedere con i petali più spessi e comunque sono li riesco a modellare e questo qui invece è quello che abbiamo fatto oggi allora questo qua ve lo lascio così perché non perché sono cattiva o perché non volessi farvi vedere come si come può essere finito ma perché scusatemi lancio la sfida a voi come chiudereste questo pezzo come chiudereste lo stelo come fareste la foglia è un'altra sfida che voglio lanciarvi considerando che la sfida di questa settimana riguarda io facessi dei fiori ma cosa potrebbe mai accadere se anziché fare un fiore con dei petali normali io facessi dei fiori con petali colorati quindi se io utilizzassi le cardine per fare un petalo che effetti potremmo mai ottenere utilizziamo le cardine penso per esempio a dei tipi di tulipani colorati tricolori o addirittura a delle rose quindi anziché usare ciao patrizia anziché usare un solo colore per fare il mio petalo se ne usassi vari quindi anziché andare a creare le sfumature ciuffo ciuffo con l'ago se invece uso le cardine e uso il la mia fantasia che cosa verrebbe fuori domanda e questa domanda ve la lascio insoluta perché voglio vedere tanti fiori fino a giovedì sera perché voglio vedere proprio che cosa siete in grado di sperimentare detta questa cosa io ho finito e spero che vi sia stato utile questo tutorial ma se nel frattempo avete delle domande da farmi io sono qui ah non vi ho fatto vedere invece quest'altro qui questo qui in realtà lo farò vedere domani perché come vi dicevo se qualcuno si è collegato dopo domani farò una diretta su instagram e realizzeremo un papavero però in feltro ad acqua e ovviamente qui non c'è nessun tipo di anima di ferro il procedimento è completamente diverso e secondo me anche l'effetto è diverso però è bello lo stesso ciao gioconda che bello vedervi tutte quante qui veramente mi avete fatto tanta tanta compagnia se qualcuno mi vuole fare qualche domanda aspetto ancora altrimenti mi accingo ad andare verso la cucina e a vedere di mangiare qualcosa ditemi ditemi aspetto ancora un pochino aspetto ancora un pochino se vi ricordo che il lo schema ve lo posterò nel gruppo quindi questo che questo schema qui ve lo posterò nel gruppo vi vi posterò questo e vi posterò anche quello del tulipano con le dimensioni e le misure e voi poi ve lo scaricate domande perplessità curiosità suggerimenti proposte tutto tace questo io io che cosa significa antonella significa che adesso tu vai a mangiare come vado a mangiare io questo mi vuoi dire sull'uso delle cardine dite dite chiedete chiedete ditemi tutto ciao barbara il risultato non è mai molto omogeneo e perché non è omogeneo scusami perché non è omogeneo al gambo si avvolge no no il risultato è omogeneo dipende dalla dipende dalla quantità di lana che tu inserisci ciao buonasera allora il le cardine allora andiamo per ordine antonella anche per stendere la lana sulle cardine c'è bisogno di un criterio quello che ho utilizzato io prima è un criterio di strisce che poi dopo devono essere ricoperte con uno strato omogeneo da un lato e dall'altro e ma puoi anche fare diversamente puoi inserire strato su strato in genere il livello è omogeneo ma ovviamente sfumato quindi magari puoi fare una cosa fai un video di come tu prepari la lana con le cardine ce lo posti nel gruppo e noi vediamo che cosa fai poi 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 grazie gioconda vediamo olivia dice al gambo si avvolge la lana e si infiltrisce o si lascia attorno attorno su e non si sa non si sa questo lo devi provare tu e altrimenti è che devo fare tutto il lavoro io no 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 prova olivia prova e fammi sapere e posta nella sfida della settimana sei molto preziosa grazie alda grazie spero sempre di esservi d'aiuto nel mio piccolo simona essendo così spesso il filo come fai ad avvolgere il gambo si fa si fa e c'è anche un trucco ma non ve lo dico ve lo dirò venerdì dopo che mi avete postato i lavori antonella ci prova perfetto se non ci sono altre domande io vi saluto tutte 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 e ci vediamo la settimana prossima con un'altra un'altra diretta sempre di mercoledì la settimana prossima sì perché l'altra mi sembra che ci sono le perle di pupilla di gioconda un bacio grande ciao ciao